Ora dammi una prova di coraggio, cammina là sopra a piedi nudi Mamma, non c'erò Se concentri la tua mente non lo sentirai Voglio tornarmene subito a casa Questo fa parte degli strumenti che possiamo pagare Ho un'idea, perché non lo aiutiamo? Sentite, se non lo aiutiamo La mia concentrazione è stata efficace La tua mente è piena di ignobili pensieri L'uomo che mi...